10 giugno 1981. Le BR rapiscono a San Benedetto del Tronto Roberto Peci, fratello di Patrizio Peci, il primo grande brigatista pentito. Grazie alle rivelazioni di Patrizio Peci, il generale dalla Chiesa ha potuto individuare covi e identificare militanti, rendendo meno impenetrabile il muro di silenzio e di omertà dietro cui si trincerano i terroristi. Ma la vendetta dei brigatisti è terribile. Roberto Peci viene sottoposto a un processo che viene interamente filmato dai suoi sequestratori fino alla sentenza di condanna a morte. La RAI si rifiuta di trasmettere il filmato del processo come richiesto dagli stessi parenti di Peci nel tentativo di salvargli la vita. Roberto Peci verrà assassinato dai suoi sequestratori il 3 agosto 1981.